Il bambino in giallo, il bambino in giallo, non avresti il titolo mio Salve a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo gioco horror, credo Ehm, siamo su The Baby Yellow Madonna santa Madonna dell'incoronata ragazzi, che cazzo di occhi Guarda che cazzo di occhi c'ha questo Oh Gesù Madonna, ma che cazzo c'ha i guanti Raga, mi piace un sacco sto poi bene Ehm, ok ragazzi, allora vediamo un poco Credo che... oh merda, scusa, 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 scusa Madonna santa, sto bambino è demoniato ragazzi Ok, prendi... che cazzo devo fare? Prendi la bottiglina nel frigo Lo devo allattare? Ok, non so se sono donna o uomo Se sono uomo è un po' difficile allattarlo Ehm, aha, eccolo qui ragazzi D'accordo, questo è il tuo... dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Ah, eccolo qui Eccoti qua Oh Gesù santo, madonna Ma che cazzo c'era in quella bottiglina, madonna Ma che cazzo erano? Spinaci? Ceci? Gesù santo, ne ho visti i bambini che fanno la popò Ma che impestano l'aria così Sì, come il covid No, vabbè, comunque Oh Come cazzo è? Oh, ecco, vieni qua eh Vieni qua che adesso ti cambiamo il pannolino Prendi un nuovo Sono mutante queste comunque Maronna mia D'accordo Dove cazzo è andato? Come cazzo c'è finito lì? Ok, vuoi che te lo cambio qui Te lo cambio qui Però non buttare la cacca nel pavimento Perché io ho pulito Prendi i bambini e portano il letto D'accordo Mi sa che avremo un sacco di problemi ragazzi Io e sto bambino Ok, allora Adesso ti metti a nanna Spegni la luce Chiudi la porta Ok Guarda la tv sul sofà Va bene ragazzi Fin qua sembra tutto tranquillo Ok Tra l'altro questa era prima notte Quindi credo che ci siano Credo che ci siano molte notti Ok Non c'è neanche un cazzo in televisione Vabbè ci mettiamo a dormire Ecco qui Eccolo Eccolo ragazzi Lo dicevo che sto bambino Ci avrebbe dato un sacco di problemi Cazzo Si è aperta la porta da solo L'hai aperta tu la porta Ma dove cazzo è? Dove cazzo sta? Questo è chiuso Questo è chiuso Dove cazzo sta? Ma porca di una grande Come cazzo ci sei chiuso? Bambino cattivo Non si fa Si Dai Il lace del disco Non ti è piaciuto? No Ok Vedi bambini e riporto L'ho letto Di nuovo Va bene Però non fare il cattivo Perché altrimenti ti punto per l'aria Vabbè ragazzi scherzavo Io i bambini li adurro Chiudiamo la porta La chiave possibilmente Ok Andiamo A vedere La tv Anche se non c'è un cazzo Di niente Andiamo a vedere la tv Notte 2 Ah eh Dicevo che erano varie notte i ragazzi Lo dicevo Ok Dove è andata a finire stavolta? Ah stai qua Stai a vedere la tv Quella è il mio posto Spastati Ok Vai a prendere di nuovo Oh santo c'era madonna Però non farmi di nuovo La popò Sul divano Hai capito? Non farmi la popò sul divano Ah 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 ragazzi I bambini di oggi I bambini di oggi Allora Tieni sto bambini Ehi Tieni sto cucciotto qua E Madonna ragazzi Riesco a sentire la puzza anche da qua Figurati Mi dispiace per voi ragazzi Che sentite la puzza Porca di una Ma che cazzo Ma che è? La mutanda volante Ma che è? Tratto da un nuovo film Porca di una grande Sei stata tu Non è vero? Devo anche Devo anche prendere sta mutanda Madonna Mi prendi per il culo Ma che cos'è? Ma che sono? Il cacciatore di mutande Che Finito qua Santo c'era Ma non è possibile Che io devo Oddio Santo Benedetto Madonna Mo se non stai Se non stai In bagno Vabbè Prenditi sta cosa E non fare più la popo Hai capito? Possiamo fargli i bidet Madonna Niente D'accordo Ma ragazzi Ho detto che questo Poi è il bambino Di The Mask 2 Io l'ho detto Prendi i bambini E portalo al letto Ok Va bene Però Il problema è che Se io la metto a letto Sto conso Perché io Non so se chiamarlo Bambino Fa di nuovo I capricci Allora Io adesso mi metto sul sofà A guardare Guardare la tv Io mi metto A dormire adesso Notte Che so quanto è notte Allora Guardare la tv Sul sofà Mamma Non è che non ho fatto In tempo a dire la frase Non ho fatto neanche In tempo a A pensare A dire la frase Che subito piangi Sto bambino Trovate a mangiare Ok Madonna Gesù Nutrimi Ok Bastava Bastava che piangessi Non c'era bisogno Di Madonna Santa Bastava che piangessi Cioè Non c'era bisogno Di fare tutto Sto casino Guarda qua Porca di una grande Nutri il mostro Ecco No Non sono io il mostro Sei tu il mostro Porca Ma che cazzo succede Ma che Ma questo non è un frigorifero Oh Tirami fuori Grazie Oh Porca di una gran Porca Ma cos'è tutto sto Oddio Santo Madonna Ragazzi Ma Io ho visto bambini Che facevano Popò Però che Puzzolentiscano la casa Così in questo modo Madonna mia Neanche il covid E così Gesù Santo Madonna mia Non c'era bisogno Di fare tutta sta Popò Poi questo ciucciotto Che Madonna mia Sembra che ci siano Fagioli Altro che il latte Madonna mia Fa sempre Popò Puzzolentici la casa In una maniera che Gesù santo Benedetto Madonna Mettiti qua sopra Madonna Sto bambino Madonna è una Tutto bene? No Comunque non è normale Vabbè senti Io ti lascio lì Chiudo la porta Madonna Che cazzo Ma che cazzo devo fare? Prendi il Dalisman Che cos'è? Non so cosa sia ragazzi Però qualunque cosa sia Tieni Tienitelo Ecco qui Tien Gesù Madonna Il volo del disco ragazzi Forza Facciamolo di nuovo Il volo del disco No Non gli piace Va bene Ok Porta il bambino A letto Certo Ok Vabbè ragazzi Si è avviato da solo Quindi io Me ne posso andare Porca di una grande Non posso passare Stronzi Ehm D'accordo Ok Ehm Bambina Passa Non si gioca In questo modo Non si gioca Ma ragà Madonna Io mi caldo sotto Secondo me questo Mi vomita addosso Come la bambina Dell'esorcista Buonanotte Sai che buonanotte Ok Quindi è finito qua Mamma mia Ragazzi Porca di una gran Troia Vabbè Ragazzi Questo era Dove Spero che vi sia piaciuto Non ci ho capito Neanche Però dovrebbe essere Un gioco Tipo sull'esorcismo Vabbè Non fate i sei giochi Ragazzi Ci vediamo Alla prossima Qui da Subaru Tanti like Iscrivetevi Ciao Grazie a tutti